amiche e amici di vpm power giocatori e giocatrici continuano le promozioni di epic games per regalare giochi gratis su pc fino alla fine dell'anno questa offerta di epic si è rivelata molto popolare fra i gamers e per approfittarne non dovete fare altro che avere un account epic games o crearne uno per l'occasione anche questo è gratis beh oggi è il turno di tropico 5 un gestionale molto particolare che ripercorre la storia della repubblica delle banane di tropico da un tardo 700 fino all'età contemporanea dal punto di vista della dinastia che la governa insomma è un titolo molto molto divertente che oggi potete avere gratuitamente vi basterà andare sullo store di epic o aprire il client cliccare su un negozio poi in alto su esplora e a destra alla voce gratis lì troverete il titolo ma per comodità vi metto il link direttamente qui in basso in descrizione aggiungetelo al carrello completate la procedura e scaricate il gioco buon divertimento mi raccomando domani vi diremo un altro gioco gratuito quindi tornate sul nostro canale e iscrivetevi per non perderlo ah e già che ci siete mettete un mi piace alla pagina facebook e seguitici anche su instagram alla prossima